Creare una collezione di NFT come questa senza dover utilizzare nessun codice ma utilizzando semplicemente un'applicazione. Ci tengo a specificare che quella che vedremo oggi è un'applicazione che però ha alle spalle lo stesso programma che abbiamo utilizzato in questo video per creare 10.000 NFT. Con quel codice abbiamo sicuramente più funzionalità ma se vi serve semplicemente creare 10.000 immagini questo programma andrà benissimo. Aprite il link di GitHub che vi lascio in descrizione ma questa volta rispetto alle altre invece che andare su Code e scaricare lo zip dovete cliccare su versione 0.1. Ora vi apparirà questa pagina. Dovete scaricare questo se avete un Mac con il chip M1, questo se avete un Mac senza chip M1 e questo qui per Windows. Io scarico questo perché sono su Windows. Poi dovrete andare nella cartella dove l'avete scaricato e fare doppio clic. Essendo che questo è un file eseguibile che Hashlips ha reso pubblico mettendolo su GitHub ci dice che l'applicazione non è riconosciuta ma qui sta a voi. Io ho utilizzato moltissimi suoi programmi e non ho mai avuto problemi. Scegliete voi se andare avanti o meno. Una volta aperto vi troverete in questa schermata. Dovete creare una cartella layer e successivamente una cartella build e quest'ultima andrà lasciata vuota. Mentre nella cartella layers dovrete inserire altre cartelle con i nomi dei livelli e in ognuna di queste cartelle inserire i file PNG. Mi raccomando solamente i file PNG perché se ci dovesse essere un file che non è PNG il programma darà errore. Una volta fatta questa parte dovrete cliccare su configuration, inserire quanti NFT creare, il nome da dare alla collezione, il simbolo della collezione e perché no anche una descrizione. Qui si può scegliere la larghezza e l'altezza del file. Io per non farle troppo pesanti metterò 500 ad ognuno. Quando avete finito chiudete e aprite i percorsi qui sotto. Qui dovrete cliccare set input, andare dove avete creato la cartella layers e selezionarla. Mentre qui sotto invece nell'output dovrete andare su set output, andare sempre sul desktop e selezionare la cartella build. Una volta che avete finito chiudete anche questo, andate su layer order e una volta cliccato get folders appariranno qui sotto tutte le cartelle che si trovano all'interno di layers. Come vedete hanno un ordine. Trascinandole si può cambiare l'ordine ad esempio mettendo background sotto bottom lead ma in questo caso io lo rimetto com'era perché l'ordine è importante. Mi raccomando il primo che mettete in alto è quello che sta sullo sfondo. Mentre ad esempio bottom lead sarà sopra background, eye color sarà sopra bottom lead e eyeball sarà sopra eye color e così via per tutti questi sotto. Se avete seguito lo scorso tutorial però saprete che è possibile anche assegnare una rarità a questi livelli. Nel video dove spiegavo la procedura tramite codice facevo vedere che per cambiare la rarità di un'immagine bastava semplicemente rinominarla mettendo un cancelletto e un numero dopo il cancelletto. Questo numero andava a indicare se l'immagine sarebbe dovuta essere più o meno rara. Ad esempio se mettiamo 100 è molto meno raro. Se su green avessimo messo 10 questo green sarebbe stato più raro di questo ciano. Su questo programma però non funziona così. Per cambiare la rarità bisognerà andare nel nome del file e rinominarlo con un dollaro e un numero dopo il dollaro seguendo la stessa procedura del cancelletto. Ma in questo caso invece che il cancelletto ricordate che ci va il dollaro. Io adesso per renderlo molto comune metterò 100 così vi farò vedere che uscirà con molta più probabilità. Mi raccomando una volta apportato modifiche se vedete qui non è cambiato niente ciano è sempre 0 dovete ricliccare su get folders e adesso apparirà 100. Mentre tutti gli altri vedete che di default hanno uno. Adesso per crearle andate su create generate e una volta che questa progress bar sarà arrivata alla fine potremo andare nella cartella build. Adesso dentro la cartella build appare un'altra cartella di nome build perché prima mi sono sbagliato e ve l'ho fatta creare. In realtà non serviva perché semplicemente qui bastava selezionare il desktop invece che questa cartella. Ma comunque non è un problema perché tutti i file che abbiamo creato sono comunque qui dentro. Infatti vediamo come ci sono le immagini e come il ciano che avevamo messo meno raro appare infatti più volte. Oltre alla cartella immagini troviamo anche la cartella json dove dentro troviamo appunto i file json contenenti i metadati di tutti i nostri nft. Tra l'altro un piccolo appunto in questa schermata ci dovrebbe essere una preview di come verrebbero gli nft quindi ci dovrebbe essere un'immagine come queste che infatti c'è sul mac ma che attualmente non funziona su windows. Inoltre se avete seguito il video su come caricare 10.000 nft su openc che vi lascio nelle schede e sotto in descrizione saprete che per caricarli su openc vi serve utilizzare un ipfs. E infatti una volta caricata la cartella images sull'ipfs con la procedura che vi faccio vedere in quel video servirà a poi caricare anche la cartella json. Però se adesso andassimo su un file json come ad esempio questo vedremo che nell'image c'è scritto replace infatti non c'è ancora l'ipfs in questi file json. Per aggiungerlo basta tornare sul programma andare qui sotto in ipfs andare a prendere il cid della cartella che è sull'ipfs come faccio vedere in quel video e fare ctrl v. Successivamente cliccare su update metadata e adesso possiamo tranquillamente tornare nella cartella json aprire i file e vedere come nell'image c'è ipfs due punti doppio slash questo cid slash uno punto png perché è il primo file. Se aprissimo il secondo ci sarebbe lo stesso cid ma slash due punto png. Quindi adesso per caricarlo su openc o in questo caso nella testnet o utilizzate il metodo che faccio vedere in quel video per caricarli tramite ipfs oppure su openc andate su create firmate la transazione cliccate su questo riquadro poi andate nella casella desktop nella cartella build selezionate di nuovo build in questo caso per il mio errore. Prendete su immagini e selezionate la prima adesso qui inserite il nome della collezione il link esterno al vostro sito la descrizione la potete aggiungere a una collezione e successivamente crearlo. Però se seguiste la procedura che faccio vedere in quel video tutta questa parte non andrà fatta a mano e qui il nome sarà preso da solo la descrizione sarà presa da sola e non servirà a caricare un nft uno per volta mentre se usaste questa procedura sareste obbligati. Il video termina qui se avete qualsiasi dubbio scrivetelo qui sotto nei commenti e lasciate like iscrivetevi al canale ed attivate la campanellina per non perdervi i prossimi video. Io vi saluto e alla prossima ciao